Cari amici, terminata questa pesantissima puntata dal Municipio 9 la Manifattura Tabacchi, la vedrete sabato insieme a Paolo Rusconi, Fran Diamond e Daniele Menti e che vi posso dire, questo è uno dei risultati della serata, questo, questo, ma siamo sopravvissuti anche stavolta e andiamo avanti, Tullio Trapasso, City Report, seguiteci. Grazie per la visione!